Parla fanazzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra, ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Ferdi e René Cadioglu avrebbe catturato l'attenzione di Napoli e Milan. A far sapere la questione ci ha pensato il padre del centrocampista, che attualmente veste la maglia del Fenerbace. Il papà del giocatore ha rilasciato un'intervista in Turchia in cui ha affermato che il Napoli li avrebbe contattati. Non solo, anche il Milan avrebbe fatto la stessa cosa. Ecco le parole del padre di Ferdi e René Cadioglu. Napoli e Milan ci hanno contattato, ci fa piacere questo interesse ma per il momento il Fenerbace resta la priorità. Adesso vuole vincere il campionato e pensare di far bene all'interno del club. Se il Fenerbace dovesse darci via libera allora valuteremo le varie opzioni. Ehi fan di Azzurra! Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.